Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio spiegare come utilizzare un interessante strumento che ci permette di accedere alla nostra nuvola personale su Ubuntu One via protocollo FTP. Allora, piccola premessa, perché vi sto presentando questo interessante strumento, perché allo stato attuale l'interfaccia web di Ubuntu One, cioè quell'indirizzo internet che ci permette di accedere ai nostri dati che abbiamo salvato nella nostra nuvola su Ubuntu One, appunto, ha alcune limitazioni. Non so se Canonical prevede di modificare le funzionalità attuali o meno, comunque lo stato corrente è il seguente. Dall'interfaccia web voi potete, come vi mostro rapidamente qua, potete caricare un file, potete creare una cartella, però non potete fare nient'altro. Potete fare il contrario, ovvero scaricare un file, vedete, download file qua, ma per esempio non potete scaricare un'intera cartella, non esiste questa funzionalità. Ecco, quindi vedete che è, diciamo, un'interfaccia un po' limitata nella gestione di file e cartelle. Fa il minimo indispensabile, però non proprio tutto quello che potremmo aver bisogno di fare. E' pur vero che Ubuntu One, quindi la nostra nuvola, la nostra cloud personale, per salvare i dati e sincronizzare i dati fra i nostri vari PC, funziona non principalmente con l'interfaccia web, ma bensì con la parte client, cioè noi abbiamo le nostre cartelle sincronizzate e che si presentano con questo visto, come vi ho già mostrato in altri miei video, quindi non sto qui a ripetermi troppo sui principi di funzionamento di Ubuntu One, comunque è importante questa premessa per capire poi quale valore aggiunto ci dia questo strumento di accesso via FTP. Quindi, dicevo, le nostre cartelle sono sincronizzate, noi mettiamo file, altre cartelle, tutto dentro una cartella sincronizzata, automaticamente queste vengono poi salvate nella nostra nuvola personale e ce le ritroviamo presentate qui anche sul web pari pari tale quale. Quindi, diciamo che la strada dal nostro PC verso la nuvola dei nostri dati, la nuvola personale Ubuntu One, è stabilita e presenta tutti i vantaggi che ci dà il file manager locale, ovvero in questo caso Nautilus, nel quale possiamo tranquillamente gestirci file e cartelle a uno a uno in massa, come vogliamo, ovviamente. La strada contraria, quella di recuperare i dati direttamente dal web, che magari non siamo sul nostro PC, ma abbiamo bisogno di dati su un altro PC, quello dell'ufficio, magari solo di specifici file o una specifica cartella, purtroppo appunto l'interfaccia web attualmente è limitata in questo senso. Se non abbiamo Ubuntu One a disposizione sul nostro PC, ripeto, facciamo l'esempio dell'ufficio, dobbiamo andare a scaricarci un file alla volta. Vedete, download file, però, e uno alla volta, ne avessimo 30, sarebbe già una procedura un po' lunga. Potessimo scaricarci almeno una cartella, invece non lo possiamo fare, non possiamo nemmeno rinominare un file, niente. Quindi, ecco che sarebbe interessante appunto avere a disposizione uno strumento che ci permette di accedere in un modo alternativo alla nostra nuvola di Ubuntu One, che non sia appunto la strada normale delle cartelle sincronizzate. Questo perché? Perché sapete che su Ubuntu One io posso caricare una volta una cartella o creare una cartella, ma non necessariamente sincronizzarla col mio PC locale. E quindi tenere questa cartella nella nuvola come un vero e proprio archivio e non sincronizzato. E quindi io magari ho desiderio di metterci dei file, di archiviare dei documenti ogni tanto in quella cartella che so già che non verrà replicata sui miei PC, il mio o i miei PC locali, perché non ho attivato la sincronizzazione. Per chiarire ancora meglio, apro un attimo il client, ovvero il programma sul vostro PC per gestire Ubuntu One, quello chiamiamolo ufficiale, e vedete che c'è la colonna sincronizza localmente nelle varie cartelle che io ho presenti nella mia nuvola Ubuntu One. Vedete che per alcune c'è il vistino e per altre no. Quelle con il vistino sono quelle sincronizzate, quelle senza sono quelle non sincronizzate. Quindi queste cartelle, per esempio questa, ha del contenuto nella nuvola, quindi in rete, che non è necessariamente presente anche localmente sul mio PC. Se ce l'ho bisogno, ce l'ho anche sul mio PC. Se non ce l'ho bisogno, è solo un archivio in rete salvato, sicuro e protetto da problemi di disco o di furto di PC, eccetera. Quindi grazie a questa opzione di poter anche creare delle cartelle puramente di archivio in rete, e avendo però questa interfaccia web limitata nelle funzionalità, capite che sarebbe interessante poter avere un modo di gestire tutto quanto ho nella mia nuvola personale con la comodità del nostro file manager sul PC. e questo strumento che vi presento in questo video permette proprio questo. Vi permette di connettervi via FTP, che non sto qui a spiegarvi tecnicamente cosa vuol dire, cosa non vuol dire. È una sigla che vuol dire semplicemente protocollo di trasferimento di file. Ecco, vi basti questo, è un modo per comunicare con la rete e trasferire caricando o scaricando dei file, insomma. Ecco, per dirla in parole molto povere. Ecco, grazie a questo strumento quindi noi possiamo includere, innestare nel nostro file manager, nel nostro caso di Ubuntu si chiama Nautilus, il file manager. Ecco, innestare sotto la categoria rete, vedete qui rete, io posso aggiungere una voce che via FTP si connetta al mio conto Ubuntu One e mi faccia vedere le cartelle e i file esattamente come vedo questi che sono presenti localmente sul mio PC. Ecco, questo è un po' lo scopo. Quindi, cosa sono i vantaggi di avere attivo questo strumento? Sono che io posso caricare e scaricare più file, ovviamente assieme, e anche cartelle intere. Posso sia caricarle sia scaricarle dalla mia nuvola Ubuntu One verso il mio PC localmente o dal mio PC localmente verso la mia nuvola. Quindi posso lavorare esattamente come lavoro con i miei file localmente. Poi, posso rinominare file e cartelle, in massa, non in massa, come voglio, però sono libero di farlo e vi ho appena mostrato prima che nell'interfaccia web non è possibile. E in più, diciamo che per quanto riguarda il mio caso o il nostro caso in cui usiamo Ubuntu, non è una necessità perché Ubuntu One è già integrato in Ubuntu, ma anche per qualsiasi altro sistema operativo che voglia sfruttare le potenzialità e le comodità di Ubuntu One possono accedere anche loro ad un loro conto Ubuntu One attraverso questo protocollo FTP che, è chiaro, non permette la sincronizzazione automatica, è semplicemente una strada di accesso manuale che però appunto è meglio di niente. Quindi, qualsiasi sistema operativo che sia Windows, Mac, altre distribuzioni Linux che non integrano automaticamente Ubuntu One, mediante questo FTP, perlomeno è possibile avere un accesso alla propria nuvola personale, sempre che si voglia creare un conto su Ubuntu One, anche se non si usa Ubuntu. Quindi, ovviamente, il poter usare il proprio file manager al quale si è abituati anche per gestire i file nella nostra nuvola personale, oltre al sistema di sincronizzazione automatico che è lo scopo poi di Ubuntu One, per quelle cartelle che non sono sincronizzate localmente, è molto utile, quindi capite l'utilità, il valore aggiunto di questo strumento. E questo strumento naturalmente può essere usato puntualmente, cioè non è che io tutti i giorni ho bisogno di caricare o scaricare decine di cartelle, decine di file della mia nuvola personale, mi succede rarissimamente di dirmi, ecco, adesso avrei bisogno di questa funzionalità, però quando ce l'ho bisogno, perché no, ben venga, che adesso l'ho disponibile e quindi la uso. Ecco, da dove prendo questo strumento, quindi, e come lo uso? Passiamo alla parte pratica. Ecco, allora, questo indirizzo ci permette di andare a scaricarci lo strumento, adesso ve lo lascio naturalmente come sempre in descrizione, e vi faccio vedere qual è la pagina, quindi è questo, lo vedete qui, l'indirizzo è questo, e qui sotto download, vedete qui un bel pulsantone dove potete scaricarvi un archivio compresso zip con dentro tutto il programma. Ecco. E giusto piccola nota a margine, questo non è un'utilità, un programmino che si è costruito, che si è creato, che ha sviluppato uno sviluppatore qualsiasi perché a lui era necessario e quindi si è messo in mente di crearlo, bensì l'ha creato, sì uno sviluppatore, ma come esercizio e dimostrazione di programmazione su Ubuntu One da uno sviluppatore di Canonical e proprio del gruppo che si occupa di Ubuntu One, quindi non è uno sviluppatore qualsiasi, ma proprio qualcuno che è in materia, che è dentro nella materia, quindi è uno sviluppatore che si occupa tutti i giorni di Ubuntu One, quindi vedete che è proprio stato costruito da uno che se ne intende, diciamo così. Ecco. Quindi, una volta scaricato, ci ritroviamo il nostro, io me lo sono scaricato qua, ci ritroviamo il nostro archivio compresso zip, che si chiama U1, che è poi la sigla abbreviata di Ubuntu One, ftp01zip, e lo si deve lasciare così com'è, perché in questo archivio compresso sono contenute tutte le parti di programmazione in Python, che è uno dei tanti linguaggi di programmazione, e questo linguaggio permette anche di creare degli archivi che poi possono essere utilizzati direttamente così, senza estrarre nulla dall'archivio, e quindi questo presente è il programma, qui è contenuto tutto ciò che serve al programma. E ora passiamo all'utilizzo di questo programma, e quindi ci bisogna, senza dover far niente di speciale, di preparativi, ci bisogna solo di un terminale, quindi apriamo un terminale, ve l'ho già aperto qui, e per farlo funzionare, dicevo, un programma in Python, quindi ci bisogna di richiamare l'interprete Python, quindi voi aprite un terminale, semplicemente scrivete quello che sto scrivendo io adesso, Python. Questo è il comando per richiamare l'interprete di questo linguaggio di programmazione, e poi potete semplicemente trascinare dalla vostra finestra Nautilus, del vostro file manager, lo zip accanto, dopo aver fatto uno spazio, accanto alla parola Python. A questo punto basta un enter per far partire il programma, e il programma parte. Cosa fa il programma? Non fa nient'altro che attivare quello che io ho chiamato all'inizio il protocollo FTP, cioè questo protocollo di trasferimento file, che va attraverso un indirizzo web, anche lui, invece di essere un HTTP o HTTPS, come vedete qua sopra, l'FTP è un FTP, due punti, barra, barra, eccetera, eccetera. Ecco, questo programmino inizia col presentarci l'indirizzo al quale noi dobbiamo accedere per poter accedere ai nostri file sulla nuvola in internet, sulla nostra nuvola Ubuntu One. Quindi noi dobbiamo fare in modo di accedere a questo indirizzo. Ecco, particolarità tecnica di questo indirizzo è il 127.0.0.1, che significa il vostro PC. Questa è una convenzione che su tutti i PC, su tutti i sistemi operativi del mondo, questo numero significa il vostro PC, quello al quale siete seduti davanti in questo momento a guardare questo video. Ecco, una parola che significa questo stesso numero è localhost, e adesso vedete che io la userò per integrare nel nostro file manager Nautilus l'accesso a questo indirizzo. Allora, niente di complesso, è più complesso spiegarlo che farlo. Quindi, con la nostra finestra attiva, andiamo su file, e scegliamo connetti al server. Ecco, connesso al server. Ma questo lo posso mettere anche a icona per il momento. E qui vedete che c'è, Nautilus permette di connettersi con diversi cosiddetti protocolli. Quello che ci serve a noi è l'FTP con login, perché naturalmente noi dobbiamo dare user e password del nostro conto Ubuntu One per accedere. Quindi scegliamo FTP, perché stiamo parlando di FTP. Quindi sposto un attimo la finestra. Ecco, adesso qui server. Server dobbiamo dargli questo numero, praticamente. Noi possiamo dare 127.0.0.1, quindi possiamo scrivere questo. Oppure, e questo solitamente è ciò che si fa, visto che questo numero è universalmente riconosciuto come la macchina locale, si sostituisce quel numero con la parola localhost, cioè macchina locale. Anche questa è una convenzione universale. Tutti sanno, una volta che lo sanno ovviamente, tutti sanno che localhost è equivalente al numero internet, il numero IP 127.0.0.1. Quindi, è più facile tenere a mente una parola che un numero per noi esseri umani, quindi c'è un localhost che è, diciamo, un aglias, cioè un'alternativa di denominazione di questo indirizzo internet 127.0.0.1. E poi c'è anche una certa porta per poter accedere, la cosiddetta porta, vedete, e quella è indicata qui dopo il due punti, vedete, due punti 21.0.1. Qui c'è già indicato un 21, ma in realtà la nostra porta che dobbiamo usare è 21.0.1. Quello che abbiamo appena fatto nella prima riga di campi è semplicemente replicare quanto il nostro programmino qua, U1 FTP, ci ha indicato di fare. Qui ormai è tutto in inglese, però c'è la frase listening on, vuol dire sto ascoltando qui, sto ascoltando su questa porta 21.0.1 a questo indirizzo 127.0.0.1 e noi non facciamo altro che dirgli di fare la stessa cosa, al nostro file manager Nautilus, quindi gli diciamo, ascolta sul localhost, cioè sulla macchina locale, sul mio PC, alla porta 21.0.1. Fin qui facilissimo, FTP con login, la cartella, lasciamo quella iniziale, solo la barra, che vuol dire all'inizio di tutto il ramo delle cartelle, e poi finalmente possiamo dare il nome utente, ecco nel mio caso gli do il mio account di prova di Ubuntu One, che è poi quello che avevo presentato qua dietro, questo qua è il mio account di prova, così vedrete che si vedranno le stesse cartelle, ecco, così, facciamo così e poi mi rimetto qui, così le vediamo qua dietro, dunque, spero di scrivere giusto, se me lo ricordo, se sbagliato mi darà errore, comunque mi sembra che sia giusto, spero di ricordarmi anche la pausa, perché non ci entro praticamente mai in questo account, comunque, ci provo, eh. Se ho scritto sbagliato ci dà errore, se è scritto giusto, si schiaccia connetti, e voilà, un attimo di connessione e vedete che qui mi si apre un'altra finestra di Nautilus, qui nel paragrafo a sinistra del file manager sotto rete, vedete che ha creato una voce che è proprio quella del mio account Ubuntu One qua dietro, vediamo un po', vedete qui c'è backup bind test, vedete le cartelle queste, pubblici, pubblici, DejaDoop, DejaDoop, Ubuntu One che è poi questo, il contenuto della cartella Ubuntu One, il quale deve avere dentro la cartella prova che è questa e questi file che sono questi, vedete, quindi sto accedendo normalmente attraverso il mio file manager a questa, al mio account Ubuntu One, ecco, vedete qui riportato, e come abbiamo visto qui, giusto per comprendere fino in fondo quanto è successo, qui il terminale lo dovete lasciare aperto, naturalmente perché il programma deve rimanere attivo, se no perdete la connessione, quindi all'inizio, vediamo un po' se ci arriviamo all'inizio, ecco l'inizio, FTP localhost 2121, vedete che lui me lo dice qua, sei connesso come il tuo user elmobackup.gmail.com su localhost 127.001, porta 2121, in questo momento sei connesso con questo protocollo FTP mediante login, quindi che ha richiesto una user e una password, vedete che è funzionato, ecco e da qui naturalmente, quindi il terminale lo possiamo anche mettere a icona perché lui sta lì dietro, lavora tranquillo, tiene vivo la connessione fin quando noi non ci stacchiamo, possiamo staccarci da qui, premendo questo pulsante qui, come per espellere un cd, la stessa cosa, oppure spegnendo il terminale perderemo il contatto. Ecco, vedete che posso usare, appunto il grosso valore aggiunto di questo sistema è che io posso usare il mio file manager a quale sono abituato e col quale posso fare tutto quello che voglio, anche rinominare la mia bella cartella, ecco, questo no, l'ho rinominato con lo stesso nome, quindi mi dice che non posso, beh facciamo test 3, non posso, ah però mi dice che non posso rinominare una cartella, questa è bella, prima ci ho provato e funzionato, vediamo un po', se io rinomino un file, ecco, allora il file è riuscito a rinominarlo, vediamo se riesco a rinominare questa di una cartella, sì, ok ho capito, scusate, il problema qual è? è che queste cartelle sono cartelle che fanno parte del mio file system, che sono diverse da eventuali sottocartelle, ecco, la differenza è questa, scusate, piccolo lapsus, vedete che questa cartella prova con l'icona gialla è diversa da questa cartella con questo simbolo, perché queste cartelle sono quelle sincronizzate localmente sul mio pc, presenti nell'albero delle mie cartelle, quindi non posso direttamente rinominarle da qui, ma eventuali sottocartelle che ci fossero qua sotto, con l'icona gialla, come la sottocartella di Ubuntu One, che era questa, da prova l'ho chiamata prova 4, ho potuto rinominarla, perché queste non sono direttamente sincronizzate, ma sono delle sottocartelle contenute esattamente come i file, quindi questa è una piccola parentesi che non c'entra, però se aggiorno qua, ecco, vedete che prova è diventato prova 4, a raggiacinto è diventato raggiacinto 2, quindi ovviamente le modifiche che faccio qui localmente si riflettono, perché qui sono collegato direttamente alla rete. Ecco, a parte questa impappinata finale sulle cartelle di tipo differente, che magari a chi non ha mai usato, scusate Ubuntu One può anche essere poco chiaro quello che ho appena detto, però se andate a vedervi un altro video sul mio canale nel quale spiego specificatamente il funzionamento di Ubuntu One, capirete qual è la differenza tra questa cartella gialla e queste non gialle, e quindi, dunque non sto qui a ripetermi in questo specifico video, fidatevi, c'è un motivo per cui queste non posso rinominarlo, mentre una semplice sottocartella sì, però avete capito il principio, qui io potrei portarmi anche 100 file, e buttarli dentro in questa cartella che automaticamente vengono caricati, mentre questo non lo posso fare con l'interfaccia web, come ho detto all'inizio del video. E questo è un grosso vantaggio, ecco. A meno che l'interfaccia web non cambi, non si ampli nelle sue funzionalità, questo piccolo programmino con il protocollo FTP potrà diventare molto utile non solo a me, ma a chiunque ha necessità di caricare in massa, sulla propria nuvola personale, dati, documenti, che poi non necessariamente sono sincronizzati localmente sul proprio PC, ma vengono solo archiviati lì per essere sicuri di averli salvati sempre. Ecco. Oh, è stato abbastanza duro il finale di questo video, comunque spero che abbiate capito il valore aggiunto, più che abbiate capito che io sia riuscito a spiegarvi bene il valore aggiunto di questo piccolo programmino, di questa utilità, vi ringrazio per l'ascolto come sempre, per la visione e vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!